Romano Color e Style, il futuro è uno spazio vuoto da riempire e colorare con la tua immaginazione. Erano divenute piuttosto frequenti negli ultimi tempi le visite a Cava dei Tirreni di un uomo animate dal deprecabile intento di mettere in atto la cosiddetta truffa del resto, che consiste nell'acquistare un prodotto con un prezzo contenuto e pagare con una banconota di taglio elevato falsa. Diversi commercianti sono stati vittima dell'abile truffatore, che tuttavia è stato assicurato alla giustizia dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni, che nella giornata di mercoledì in via Guerritore hanno notato un uomo fuggire inseguito da un giovane indivisa da cameriere. I poliziotti così hanno bloccato l'individuo sospetto, che è risultato essere un quarantenne residente a Napoli con numerosi precedenti penali a carico per i reati di truffa, ricettazione e spendita di banconote false da 100 euro. E proprio per questo reato, negli ultimi cinque anni, risultava denunciato varie volte ed arrestato in due occasioni. L'uomo aveva con sé una banconota da 100 euro e tre banconote da 5 euro, ed una chiave di un veicolo di marca Fiat. La successiva perquisizione dell'auto ha permesso inoltre di rinvenire, celata da un'apposita copertura, una busta contenente tre banconote da 100 euro, risultate false e complessivamente 360 euro in banconote di vario taglio originali.